Tre feriti, uno in pericolo di vita. È drammatico il bilancio dell'ennesimo incidente stradale verificatosi sulla Via Emilia nel pomeriggio di sabato intorno alle 14.30 nel tratto di strada fra Faenza e Castel Bolognese. Due veicoli, una Toyota Yaris e un furgoncino Peugeot, si sono scontrati frontalmente in una zona a teatro di numerosissimi incidenti stradali nonostante a poche centinaia di metri un autovelox obbliga a rispettare i 70 km orari. Nello stesso punto, martedì scorso, ha perso la vita un centauro ravennate di soli 30 anni. Le dinamiche del nuovo incidente sono al vaio della Polizia Municipale della Romagna Fentina. Le due donne che viaggiavano a bordo del furgoncino sono state ricoverate all'ospedale di Faenza. L'uomo al volante della Yaris, invece, è stato ricoverato al centro traumatologico di Cesena con il codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente sono dovute intervenire diverse forze dell'ordine, oltre ai vigili del fuoco anche carabinieri e polizia stradale. La circolazione, infatti, è stata bloccata il traffico, solitamente intenso nel weekend, deviato sulle strade secondarie.